Ciao ragazzi, siamo tornati qui con i giri di ruota Questi giri sono rivolti a Joelle Che ha donato 47 monete Essendo abbonato a un abbonamento di 4 monete Che anche se non dona, le vengono aggiunte Quindi avrà 5 giri di ruota Il primo giro Mi dispiace, ma il giro è perdente È perdente, ma no perché è save e quindi vinci una partita in realtà Secondo giro Niente, quindi un'altra partita da giocare con me Terzo giro Assolutamente niente, anche al terzo Quarto giro Niente Quinto e ultimo giro Anche questo niente Quindi sono 5 partite Quinto e ultimo giro